In questo esercizio andremo a ricreare una torcia infuocata, quindi affronteremo il tema del fuoco con il piflo, con la perdita di alcuni elementi durante il movimento della stessa nello spazio. Prima di iniziare, bisogniamo il file che utilizzeremo. Abbiamo una geometria, un cilindro per l'esattezza, che è stato modificato con semplici modificatori basilari come l'FFD Box, il Noise ed il Turbo Smooth, per poi essere adeguato all'animazione con operazioni che considero di routine per chi anima, cioè un Reset X-Form e la collocazione del pivot nel punto considerato idoneo per il nostro scopo finale, in questo caso la base dell'oggetto, ovvero dove sarà ideologicamente impugnata la torcia, per poi concludere con il collasso del tutto con un Edit Poly o se preferite un Edit Mesh. Personalmente predilego un Edit Poly, poiché consente di mantenere una geometria a maglia quadrata, quindi a quad in gergo, ma in alcuni casi potrebbe essere più utile utilizzare un Edit Bash, considerando la sua azione di collasso più leggera in termini di peso sul file e quindi di calcolo in fase di lavorazione, oppure perché richiesto da uno specifico workflow di lavorazione, ad esempio nel caso in cui dovessimo esportare il tutto per sistemi real-time render, come Unreal Engine o Unite 3D, per citarne alcuni. L'animazione è molto semplice e per il nostro esempio è più che sufficiente. Volendo potete applicare il sistema anche ad altri elementi, da voi elaborati, con animazioni più complesse, oppure semplicemente ad oggetti che saranno fermi o di arredo nel vostro environment, ad esempio un cammino o un semplice bracere. Ma veniamo a noi, e per prima cosa apriamo il Particle View. Come sempre preferisco lavorare senza creare l'icona in scena, ma partire subito dal Particle View, inserendo le azioni di cui avrò bisogno volta a volta. Consideratelo come un foglio bianco dove scrivere. Magari all'inizio è utile partire da delle basi o suggerimenti, se mi passate il termine, ma col passare del tempo sarà quasi naturale aprirlo vuoto ed inserire quello che vi serve. Detto questo, il primo elemento che dobbiamo generare sarà un Empty Flow, il quale lo lasciamo così di default, che a sua volta sarà collegato ad un primo evento, con un BERT, ed un Position Object. Associamo nell'operatore Position Object il nostro emettitore, ovvero la nostra torcia, e spultiamo alcune opzioni come Lock On Emitter e Animated Shape. In questo modo avremo consentito di ancorare le Particles alla nostra geometria. Volendo potremo anche attivare il Sub Frame Sampling, per una più alta analisi dell'emissione. In pratica il singolo frame viene suddiviso in sottomultipli, secondo il valore impostato nel Particle Flow Source, permettendo una simulazione più accurata, più veritiera, e di conseguenza anche più esigente in termini di risorse e hardware. Sono rari i casi in cui viene utilizzata questa voce. Alla label Location possiamo scegliere diverse tipologie e attualmente le Particles vengono posizionate in base alla nostra superficie, ma in questo caso vi consiglio di selezionare Selected Faced. Bene, non è cambiato nulla. Questo perché dobbiamo selezionare dei poligoni sul nostro emettitore, quindi selezioniamolo e attiviamo la Sub D inerente ai poligon, per poi effettuare una selezione come meglio crediamo. In alternativa potete utilizzare una mappa in scala di grigi, ma di essa parleremo prossimamente. A questo punto se scorriamo con il Time Slider sulla Timeline, notiamo che le Particles vengono generate nel tempo e non sono già presenti in scena, quindi andiamo a lavorare sull'operatore BERT. Impostiamo Start e Stop su 0 e possiamo lasciare il valore di amount a 200. In questo modo le Particles saranno ferme e già presenti in scena fin dal primo frame. Non abbiamo inserito nessun operatore di velocità, come ad esempio lo Speed, poiché andremo a generarla con una forza. Nel corso Particles 101, proprio nell'esercizio del fuoco da campo, avevamo utilizzato un wind per attrarre le Particles verso un punto nello spazio, generando anche la forma tipica della fiamma, di un fuoco generato dalla combustione dei tronchi. Allo stesso modo lo faremo anche in questo tutorial. Quindi creiamo uno Space Warps Wind e lo collochiamo sopra la nostra geometria, un pochino più in alto. Variamo la sua forma in Spherical, regoliamo le dimensioni e variamo alcuni suoi parametri fondamentali. Sicuramente la forza non può essere positiva perché dobbiamo far sì che attragga, quindi potremo assegnare un valore negativo, meno 0,25 o, se troppo alto, anche meno 0,05. Per il nostro esempio quest'ultimo va più che bene. Agiamo anche sulla turbolenza e la frequenza. 0,25 e 0,05 sono i valori che, dopo alcune prove, ho ritenuto più idoni per questo esercizio, ovviamente. Non andremo a farlo, ma si potrebbe anche animare sia i valori citati che la posizione del wind, nel caso voleste realizzare maggior confusione delle fiamme. Torniamo nel Particle View ed aggiungiamo un test Spawn nel primo evento. Questa action consente di inviare le particles da un evento moltiplicandone il valore di partenza. Con le impostazioni di default, l'operatore agirà da tramite riportando lo stesso identico valore dell'evento precedente al successivo. Quindi, se in questo caso abbiamo 200 particles nell'event 1, ne saranno trasportate la medesima quantità, cioè 200. Se vogliamo aumentarle, possiamo attivare l'opzione Per Second ed impostare un valore a piacere. Ovviamente 10 è molto basso, portiamolo a 150. Naturalmente ora non succede nulla, o meglio, le particelle sono ancora ancorate all'emettitore. Per vedere il risultato del test, creiamo un Force Operator in un'area vuota del Particle View. Associamo il nostro Wind e colleghiamo i due eventi con lo Spawn. Possiamo variare anche le altre opzioni disponibili, ma le uniche voci sulle quali voglio agire sono la divergenza, 50-60 ad esempio, e l'inerart, cioè l'eredità, la quale va a stabilire la percentuale di particles che manterrà la velocità iniziale. Quest'ultima, non avendo nessun operatore di velocità nel primo evento, è quasi inutile andarla ad impostare diversamente. Ma per comodità andiamo ad applicare un valore di meno 30, poiché potremo scegliere di inserire un operatore Speed nel corso del nostro esercizio, solo a scopo precauzionale. By Travel Distance è un'opzione molto fastidiosa per il Particle Flow e viene utilizzata per generare delle scie di particles. Solitamente quando si attiva con i parametri di default, il software rallenta un secondo prima di restituire tale informazione visivamente. Consiglio sempre di utilizzarla con cautela e di salvare prima di attivarla. Nel caso voleste moltiplicare, se non utilizzate il per second, il numero di particles, potete variare il valore alla voce Offspring, ma vi consiglio di non esagerare troppo, poiché è un moltiplicatore, quindi il valore 2, ad esempio, raddopperà l'amount del vostro birth, 3 lo tiplicherà e così via. Bene, a questo punto inseriamo un operatore Delete nel secondo evento, per evitare che le particles si generino all'infinito ed impostiamolo con By Particle Age 8 e 5. Per comodità, variamo la visualizzazione del display da Tricks ad 8 e se volete a anche il colore. Se vogliamo evitare l'effetto di accensione al primo frame, possiamo variare in negativo il valore del Start del birth, per esempio con meno 10 o meno 15. Potremmo utilizzare anche un birth initial state, nel caso volessimo creare uno stato iniziale di partenza, ma vi consiglio di considerare sempre una possibile variazione del sistema e quindi la flessibilità ed elasticità di variare il vostro flow in qualsiasi momento. Per questo preferisco utilizzare tecniche da vecchia scuola, proprio per poter avere maggior flessibilità. A questo punto il nostro fuoco potrebbe essere terminato, ma andiamo ad aggiungere delle fiamme secondarie. Creiamo nel secondo evento un test Split Amount, che avrà il compito di inviare una percentuale, ad esempio il 25%, di particelle ad un terzo evento, che sarà composto da un Force Operator, un Delete Operator. In sostanza una copia del secondo evento, dove però potremo variare i valori di influenza del vento, aggiungere altri Space Warps, anche una copia del Wind con valori differenti, oppure anche solo l'età delle Particles. Siccome la nostra torcia si muove nello spazio, ed essendo movimenti molto veloci, essa perderà dei piccoli elementi. Per simulare questo effetto abbiamo bisogno di un terzo evento, con all'interno alcuni elementi come un deflettore o un oggetto dove collideranno o si fermeranno le Particles. Quindi generiamo il nostro deflettore ed impostiamo i suoi valori a zero, questo perché vogliamo che le Particles si fermino e non rimbalzino nello spazio. Inseriamo anche un Collision Test con i valori di default ed associamolo al Deflector. Una forza che lo spinga verso il basso, quindi una gravità. Andiamo a creare una Gravity con la freccia rivolta verso il basso. Vorrei aprire una piccola parentesi. Il valore di 1 della Gravity sta a indicare una unità per secondo, quindi se stiamo lavorando con una scena con la scala impostata in metri, questa sarà uguale ad un metro al secondo. In realtà essa, per essere fisicamente corretta, dovrebbe essere 9,78 metri al secondo al quadrato, ma non è possibile con tale sistema andare a replicare correttamente l'accelerazione gravitazionale. Sappiate che tale valore solitamente viene lasciato così di default, per poi variarne l'influenza dell'operatore nel flow al momento opportuno e, se è il caso, viene creato un Force Operator apposito, con l'associazione esclusivamente di essa. Una volta creato il nuovo evento, associamolo con il precedente tramite lo Speed Test e lavoriamo sui suoi valori. In pratica, più bassa sarà la velocità, più particles saranno inviate al nuovo evento, più alta sarà e meno saranno rilasciate. Se vogliamo evitare una forte dispersione delle stesse, possiamo creare un drag con le impostazioni di default o variare solo il range di attivazione e associarlo al relativo operatore. Se vogliamo far sì che le particelle si fermino sul nostro deflettore, possiamo creare un ultimo evento, nel quale sarà presente un operatore Stop, che avrà il ruolo di azzerare sia la posizione che la rotazione della stesse. Vi ricordo che tale operator è disponibile dalla versione di 3ds Max 2014 e o con i freebies della Orbaz Technology. In alternativa, si può utilizzare un operator Speed con i valori pari a zero. Vediamo come renderizzare questa scena. Ovviamente questo sistema è compatibile con plugin come PhoenixFD o FumeFX e può essere una base di partenza per realizzare delle simulazioni molto convincenti. Ad esempio io l'ho utilizzato per generare il mio Ring of Fire. Ad ogni modo vediamo come impostare la scena per il rendering con il motore di base Scanline, ma i concetti sono validi anche per Mental Ray o Vray. Andremo ad inserire degli operatori Shape, Scale e Dynamic Material, che in alcuni casi saranno copiati come instance negli eventi. Per prima cosa però creiamoci materiali standard che utilizzeremo. Apriamo l'Editor Material, selezioniamo un materiale standard che chiameremo Flame. Nel Diffuse applichiamo una mappa di Particle Age con colori simili al fuoco, quindi un rosso, un arancione ed un giallo, mentre lavoreremo a piacere sui valori come Specular, Glossiness, Self-Illumination ed Opacity. Questo materiale è stato ampiamente trattato nel corso precedente, Particle 601, quindi se lo avete seguito potete riprendere la lezione per approfondire in dettaglio il suo comportamento, il video è il numero 30 per essere precisi, oppure visionarlo nel file di lavoro reso disponibile. Comunque, una volta che abbiamo generato questo primo materiale, cloniamolo due volte e variamo leggermente alcuni suoi parametri come, per esempio, la sua Self-Illumination o i colori contenuti nella mappa Particle Age. Ovviamente variamo anche i nomi. Spostiamoci nel Particle View e nel secondo evento inseriremo una shape di tipologia cubica con un valore piccolo, ad esempio 0,6. A seguire un operatore Scale e un Material Dynamic, al quale associamo il materiale standard Flame. copiamo, come copia, i tre operatori appena creati nel terzo evento e associamo un materiale differente. Nel quarto e quinto evento andremo a clonare come instance l'operatore Shape, Material e Scale, quest'ultimo facoltativo, ed associamo l'ultimo materiale creato. renderizziamo. Ecco, il risultato può ancora migliorare se applichiamo un po' di Motion Blur, quindi selezioniamo il Piflo Source, tasto destro del mouse ed abilitiamo il Motion Blur. renderizziamo nuovamente. Possiamo anche applicare delle luci in scena e linkarle all'emettitore per poter ottenere un effetto ancora più realistico. Ovviamente con una buona dose di post-produzione possiamo migliorare notevolmente il nostro effetto. Un'alternativa potrebbe essere quella di renderizzare il tutto con un operatore Shape Facing, con valori molto bassi ed un unico colore netto per poi modificarlo in sola post-produzione. Grazie. Grazie. Grazie.